E purtroppo ci rimane solo lui, ci rimane solo Fabio Fognini, infatti purtroppo Andreas Seppi, Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego sono stati eliminati al secondo turno degli US Open per mano. Sonego è una sconfitta che ci stava, penso che abbia fatto il possibile 7-5, 6-3, 6-3, comunque far lottare il primo set e non sfigurare nel secondo e nel terzo contro un avversario in ascesa, in grande forma, come Karin Kacianago, che ha fatto la semifinale 1000 due settimane fa a Cincinnati, direi che a Toronto l'ha fatto la semifinale 1000 tre settimane fa, direi che comunque Lorenzo Sonego abbia fatto il possibile. Forse ha pagato anche un po' la stanchezza della partita contro Gilles Müller. E comunque un Kacianov molto molto cinico sulle occasioni che gli sono capitate. Mentre Paolo Lorenzi penso sia la sconfitta più grave per come è arrivata più che altro, perché nel primo set Paolo Lorenzi si è ritrovato 4-1 e ha avuto quattro opportunità per andare sul 5-1, non sono state trasformate. Pei ha recuperato il break, sono andati sul 5 pari e poi lì l'Argentina ha piazzato il break decisivo e ha vinto il primo set 7-5 per poi dominare i secondi 2-6-0-6-2. Una resa un pochino sorprendente quella di Paolo Lorenzi che è andata molto vicino a vincere il primo set e poi è praticamente sparita dal campo. Peccato davvero per Paolo Lorenzi che comunque il suo esofena resta pienamente sufficiente grazie alla vittoria contro Edmund che già era piuttosto inaspettata. Rush a santo rammarico invece la sconfitta di Andrea Suseppi che ha fatto partita pari contro Denis Shapovalov portandolo al quinto set ha perso purtroppo il primo set dove era avanti di un break, infatti nell'intervista si è rimproverato molto anche lui. Nel secondo set è stato molto bravo a piazzare il break e a mantenerlo essendo più solido e a essere definito infatti Andrea Suseppi che ha diversi rimpianti per il primo set perso soprattutto perché doveva essere più concentrato e più solido, più cinico nelle occasioni che gli sono capitate nel primo parziale e purtroppo non lo è stato. E quindi Shapovalov lo ha prontamente punito nel terzo set è stato molto molto bravo ha recuperato un break di svantaggio per poi vincere lo 7-5 purtroppo nel quarto set è stato a ruota di Shapovalov per poi però cadere nel tie break giocando molto male per perdere lo 7-2 l'ha detto anche lui. E nel quinto set purtroppo con Shapovalov non sentiva ancora la stanchezza però l'anca non era perfettamente a posto e nel quinto set insomma Shapovalov ha sbagliato qualcosa di troppo soprattutto nel settimo gioco. Cioè quando sul 3-2 Shapovalov aveva ripreso il break poi Seppi l'aveva subito controbreccato però ha detto che doveva assolutamente andare avanti 4-3 però purtroppo non metteva una prima praticamente da destra e non era riuscito a concretizzare quindi l'occasione e Shapovalov va allungato in maniera decisiva per andare a vincere l'incontro. Comunque Seppi è sempre quello che si sfigura meno. Oggi c'è Fabio Fognini contro Milman è un incontro secondo me alla portata di Fabio che potrebbe tranquillamente vincere. Comunque lasciate un like al video condividete questo video lasciate anche un commento qua sotto per sapere la vostra opinione su queste tre eliminazioni dei maschi... dei tennisti maschili e una di Camila Giorgi e per sapere che cosa ne pensate appunto su questi incontri vi invito anche a lasciare un mi piace e vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatta arrivederci ragazzi ci vediamo nel prossimo video arrivederci ciao